Io vi sto registrando e così magari questo video lo trovate già a partire da stanotte nelle nostre pagine facebook, l'immagine del profilo è quella che venite alle mie spalle e anche su youtube, soprattutto su youtube trovate la condivisione nella pagina di DJ Chattu lui esce Vincenzo Di Salvo salutate tutti quanti ragazzi, facciamo questo applauso e per chi usa il sotturzo grazie, non sento un applauso, ma sono morti adesso ci siamo ciao, cosa facciamo adesso, un po' qui con la ragazza e con chi in palla oppure se vogliono, si mettono chi vuole parlare può parlare, fate compagnia a Sarduccio chi vuole parlare lo faccia prendete le ragazze, ragazzi, dai oh, ragazzi vieni qua, lascia questa magia nuove stanno facciando vieni qua, lo metto le copie, le copie adesso, ricordo io il regia così sono da delle pizze il 2015 fa sempre si 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 ragazzi vedete i vostri luci oggi ne abbiamo 13 giusto? 13 agosto 2015 sono arrivate le pizze dopo questo ballo intanto andate a mangiare poi dopo ritorniamo con la musica di gruppo di Soneca un po' di tutto ciao